Un provvedimento da 32 miliardi con uno spazio da 500 milioni per le modifiche parlamentari e quanto annunciato dal ministro Daniele Franco sul decreto legge sostegni, il governo rappresentato anche dal ministro Federico D'Inca avrebbe confermato che il decreto legge è atteso in consiglio dei ministri venerdì e avrebbe spiegato che sono previsti tre passaggi parlamentari per consentire a ciascuna camera di esaminare e demandare il testo. Aiuti alle imprese fino a 10 milioni di ricavi con 5 fasce e percentuali che vanno dal 60% per le più piccole al 20% per le più grandi. Sarebbe questo lo schema illustrato dal ministro dell'economia e i partiti nel corso dell'incontro con i capigruppo in Parlamento. Lo schema prevede un indenizzo del 60% per le imprese fino a 100 mila euro, del 50% tra 100 mila e 400 mila euro, del 40% tra 400 mila e un milione, 30% tra 1 e 5 milioni e 20% tra 5 e 10 milioni. Un bonus per gli stagionali che non vedono aiuti da agosto al netto della Naspi perché ha avuto la fortuna di lavorare per tre mesi, una tantum da 2.400 euro complessivi con una copertura di un miliardo e mezzo di euro. In bilico ci sono anche i bonus ai collaboratori sportivi che comunque potrebbero essere riconfermati. È previsto un altro miliardo e mezzo per incrementare il fondo istituito con la manovra per ridurre i contributi dovuti da parte degli autonomi. Tutte queste comunque sono alcune delle misure illustrate. Alla riunione sul decreto sostegno Italia viva a posto i temi della cancellazione delle cartelle sattoriali non più esigibili, dell'abolizione della plastic tax e sugar tax, allungare la restituzione dei prestiti del decreto liquidità, il sostegno alle compagnie aeree non solo all'Italia e alle attività turistiche ed economiche legate soprattutto alla montagna. E ancora attenzione alle famiglie tenendo conto che le misure di sostegno incidono in maniera diversa sulle famiglie con figli, l'estensione del bonus babysitter a chi è in smart working e chiarezza su risorse per gli asili nido. Restano aperti nel decreto sostegno i nodi della cancellazione delle vecchie cartelle e della proroga del blocco dei licenziamenti. Il ministro Daniele Franco avrebbe spiegato che sulle due questioni il confronto sarebbe ancora aperto nell'esecutivo e che si arriverà a una sintesi per il Consiglio dei Ministri che dovrebbe svolgersi domani. Per le cartelle si starebbe discutendo del tetto e anche dell'arco temporale. Fin qui si è ipotizzato di cancellare cartelle fino a 5.000 euro tra il 2000 e il 2015.